Dedichiamo l'ultima ripresa di Tokyo alla nostra camera d'albergo, direi decisamente compatta. Con la telecamera si capisce poco, però la vista della finestra è decisamente bella. Siamo al decimo piano. Per inquadrare l'altro lato della stanza invece bisogna per forza usare un'ottica fisheye. Così potete vedere quanto è compatto anche questo lato. Per vedere un altro video episodio clicca sul video qui di fianco. Per vedere un video completo invece clicca sul video qua sotto. Sui nostri social invece trovi altre foto di viaggio. Ti aspettiamo al nostro prossimo video.